Purtroppo mercoledì sera mentre ero in consiglio comunale ad assistere alla presentazione, alla delibera della nuova piscina, alla quale assistevo con grande interesse e passione, mi hanno comunicato dalla piscina di Nisalvalai che c'era un grande problema, ovvero la caldaia era nuovamente spenta per problemi relativi all'approvvigionamento di acqua. La pressione era scesa perché un tubo era esploso e quindi abbiamo dovuto nottetempo lavorare creando grande disagio a tutti i cittadini, a tutti gli utenti che erano presenti in piscina. Me ne dispiaccio, non è colpa nostra ma purtroppo l'impianto è ormai arrivato alla frutta. Noi facciamo di tutto, attacchiamo pezze, cerotti però purtroppo ogni tanto accadono questi disguidi. Mi scuso ancora il nome della società per tutto quanto hanno potuto soffrire gli utenti con la doccia fredda e l'acqua che non arriva più calda in piscina. Ma nonostante questo, nonostante la caldaia non più al top, anzi non al top, abbiamo portato a compimento venerdì e sabato scorsi la manifestazione in favore di Teleton. Abbiamo fatto 24 ore di maratona, giorno e notte con ospiti molto importanti tra i quali ringrazio ancora Ivan Cottini per aver nuotato insieme a me 50 metri. Ringrazio veramente la persona straordinaria e ringrazio tutti i fanesi che hanno voluto intervenire e non solo i fanesi perché con il loro contributo hanno portato nelle casse di Teleton oltre 800 euro. Abbiamo avuto circa 170 partecipanti a questa manifestazione. Mi ha fatto molto piacere che oltre ai fanesi abbiano voluto partecipare delle società sportive che venivano da fuori Fano.